Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand della Bianchi Industri, l'azienda bergamasca di produzione e distributori automatici e siamo in compagnia di Angelo Maria Trapletti, il responsabile commerciale Vendite Italia. Angelo, bentornato! Grazie Fabio, è un piacere rincontrarci ed è fantastico essere di nuovo sul palcoscenico di Venditalia. Dopo quattro anni rincontrare tanti amici, tanti clienti, tanti produttori e fornitori è davvero una cosa che riempie di gioia e di entusiasmo la nostra professione. Talmente tanto entusiasmo che ti ha lasciato senza voce. Sono esattamente senza voce, dopo quattro giorni di intensa affluenza sono rimasto completamente afono. È un bene, sì, perché hai parlato tantissimo con i visitatori, il vostro stand è stato continuamente pieno e affollato, tant'è che io solo ora sono riuscito ad accostarmi per poterti fermare, rubare e dire dedichiamo cinque minuti a coloro che sono a casa per presentare quanto voi avete destinato a Venditalia 2022. Tantissimi prodotti nuovi, da dove cominciamo? Iniziamo proprio da un concetto che è alla base di tutta l'evoluzione tecnica che stiamo portando qui oggi in fiera. Abbiamo un progetto molto ambizioso legato proprio a una rivoluzione del modo di fare vending, creando delle piattaforme, quindi non proprio più dei modelli di distributori, ma delle piattaforme modulari per andare a fare un'offerta, a offrire un'offerta tailor made, quindi sartoriale, per ogni esigenza da parte del gestore o del consumatore finale. La rivoluzione si chiama FIGITAL, praticamente da una situazione fisica, quindi da tutta un'innovazione e da un cambiamento modulare dell'interno delle distributori automatici, è seguita da tutta una rivoluzione digitale per una gestione da remoto del distributore e una personalizzazione che rende tutto molto più semplice, intuitivo e flessibile. Abbiamo migliorato tutto un discorso di assistenza tecnica, quindi a livello anche di piattaforme online come training center, video tutorial, corsi online, powerpoint, proprio per dare gli strumenti non solo ai tecnici dei nostri clienti, ma anche al lato commerciale, di sfruttare tutte le grandiosi opportunità che abbiamo con questa nuova gamma. È una gamma totalmente nuova, abbiamo il nostro cuore, il nostro gruppo caffè che è sicuramente apprezzato dal mercato, rimani invariato, ma tutto il discorso della gestione dei solubili o delle campane del caffè o l'aggiunta di kit per la personalizzazione delle bevande è praticamente reso modulare anche in versione postuma, quindi un cliente può andare a fare una versione base basandosi su un business plan, diciamo, tarato su quello che è il suo territorio e poi andare a sviluppare l'offerta anche in corso d'opera, soltanto andando a modificare alcuni moduli. Questa cosa è supportata dal B-Creator, il nostro nuovo programma per la gestione e per la taratura delle macchine che in maniera autonoma riconosce l'aggiunta e la distinzione di nuovi moduli e dà in proposta al tecnico che è lì a preparare la macchina già delle ricette predisposte. La gamma è composta da tre piattaforme innovative, l'Intuity top di gamma del caldo, l'Agili l'entry level e la Flessi per la linea del freddo, in versione da 6, 8 fino a 10 spirali, in versione anche plus con delle colonne di acqua erogabili laterali. L'interno delle macchine è formato da tutti dei moduli standard funzionali che possono essere modificati in corso d'opera. Per quei clienti un pochettino più esigenti abbiamo la possibilità di andare a creare degli upgrade di offerta modificando i vari moduli funzionali. Tutto questo è supportato dalla versione digitale del nuovo programma B-Creator che garantisce una funzione molto più agevolata sia dal punto di vista del tecnico che da un punto di vista anche dei caricatori per la gestione e il mantenimento delle macchine. Abbiamo tutta una nuova elettronica in modalità CAN-BUS dove il computer centrale ha la possibilità di analizzare costantemente quella che è la situazione di analisi delle varie componenti interne elettroniche della macchina e di conseguenza agevolare così quella che è una manutenzione preventiva eliminando i blocchi macchina e dando così un servizio a livello del cliente finale sempre impeccabile. Angelo voi avete presentato peraltro anche una vetrina distributrice per i gelati. A grande richiesta per un mercato diciamo abbastanza di nicchia nel settore del vending abbiamo creato un nuovo modo di vendere i gelati in una vetrina di dimensione molto compatte abbiamo una macchina da 45 cm di larghezza e nella doppia modalità master o slave che è abbinabile sia alle nuove macchine quindi la nuova linea FIGITAL ma anche alla gamma attuale delle lei e delle aria. Di conseguenza stiamo dando ai nostri clienti l'opportunità non solo di difendersi da quelle che sono delle richieste da parte del mercato ma addirittura di andare a questo punto a proporsi con un'offerta dedicata con una macchina versatile perché oltre che a lavorare a meno 20 gradi quindi per la vendita di prodotti surgelati può essere anche switchata in positivo quindi lavorare sui 4 gradi per la vendita di panini o bibite energetiche. Un'idea estremamente intelligente c'è tanto altro da poter comunicare a tutti loro ma nel frattempo il tempo stringe e per evitare di fare interviste chilometriche e farti scendere ulteriormente la potenza della voce ti chiedo qual è l'indirizzo di posta elettronica che possiamo dunque fornire a ognuno di loro per entrare in contatto con voi. Per qualsiasi informazione potete contattarci all'email info-bianchiindustry.com con le due i e la y finale e richiedere informazioni su tutti i nostri prodotti. Angelo grazie per il prezioso contributo noi continuiamo abbiamo ancora un po' di roba da farvi vedere. Grazie Fabio e grazie a tutti quanti alla prossima. Grazie a tutti quanti alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.